Come se fosse possibile disegnare una griglia nella quale attendersi all'avvento del sublime o dell'osimisorato, come se fossero queste le cose da finire, partire, terra, innestarsi sull'ovale, sulla visibile imitazione del circolo, come se ci fossero ancora cose da scoprire e non dimenticare, come se fosse necessario dimostrare le istruzioni per l'abuso di sé. Grazie per la visione!